Marcello Dell'Ute è arrivato oggi a Roma ed è stato trasferito in carcere. In Sicilia la crisi economica ha cancellato 73.000 posti di lavoro. Addio Pizzo Travel, diventa tour operator e propone le vacanze Pizzo Free. Buonasera, nuovo appuntamento con l'informazione di Medianews. Oggi è venerdì 13 giugno. Marcello Dell'Ute è arrivato oggi a Roma poco prima delle 7 con un volo da Beirut dopo essere stato estradato dalle autorità del Libano. L'ex senatore del PDL, condannato definitivamente per mafia, è stato sbarcato in una zona riservata dall'aeroporto di Fiumicino per essere poi trasferito in carcere. Era latitante d'aprile quando la Corte di Appello di Palermo aveva messo nei suoi confronti un provvedimento di carcerazione dopo che la Cassazione aveva confermato la condanna. Dell'Utri aveva subito fatto sapere di essere in Libano per curarsi dopo un intervento al cuore e di non volersi sottrarre alla giustizia. In Sicilia la crisi economica sta letteralmente cancellando il lavoro. Persi 73.000 posti di lavoro in un anno, arriverà nel report Economia della Sicilia. La crisi economica è senza precedenti. Ha messo in ginocchio l'Italia intera, ma in alcune regioni le difficoltà sono ancora più accentuate. Una di queste è proprio la Sicilia. La nostra regione solo nel 2013 ha perso ben 73.000 posti di lavoro. A rivelarlo sono i dati più che mai sconcertanti del report Economia della Sicilia, illustrato nella sede palermitana della Banca d'Italia. Secondo il direttore Giuseppe Arrica, il 2013 è stato un anno negativo e anche se nel settore industriale è stato registrato un fatturato stabile, tuttavia nel sistema delle imprese si evidenzia una riduzione ulteriore degli investimenti. Questo è un dato molto negativo perché sono proprio gli investimenti la vera variabile strategica per una eventuale ripresa. Il settore in cui si sono persi più posti di lavoro è stato quello dell'edilizia. Naturalmente a soffrire maggiormente di questa situazione sono stati giovani con un livello di istruzione basso, ai quali però si sono aggiunti adesso anche gli ultra 50 anni in possesso di laurea. Riguardo al PIL siciliano, la Banca d'Italia evidenzia che per il sesto anno consecutivo l'isola non è riuscita a uscire dalla recessione, registrando un meno 2,5%. Riguardo al turismo poi i dati forniti da Banca d'Italia parlano di una domanda dall'interno ridottasi del 9,7%, a fronte della quale però è aumentata, salendo al 14%, la presenza degli stranieri. Il sindaco di Agrigento, Marco Zambuto, del Partito Democratico, si è dimesso stamattina. Lo ha comunicato lo stesso in una conferenza stampa, ieri era stato condannato dal gruppo di Agrigento al termine del processo celebrato con il rito abbreviato a due mesi e 20 giorni di reclusione per la vicenda degli incarichi da lui conferiti, secondo l'accusa in maniera illegittima nella qualità di Presidente della Fondazione Teatro Pirandello. Alla luce della legge Severino il sindaco rischiava una sospensione dalla carica per il periodo della condanna. All'interno del Palazzo di Città Misilmeri abbiamo registrato un clima piuttosto pesante che non facilita certo il percorso verso la normalità di questa pubblica amministrazione. Lo ha dichiarato Nello Musumeci, Presidente della Commissione regionale antimafia, a conclusione della visita istituzionale nella cittadina in provincia di Palermo, gestita dai commissari straordinari dopo lo scioglimento del Comune per mafia, deciso dal Governo nazionale nel 2012 il terzo provvedimento adottato in 20 anni. Nei prossimi giorni, anticipato Musumeci, ascolteremo in audizione a Palazzo dei Normanni tre commissari ed alcuni dirigenti del Comune per fare luce soprattutto su alcuni aspetti legati al pauroso arretrato di pratiche di sanatorie edilizie e al servizio di raccolta e conferimento dei rifiuti. La Giunta regionale ha richiesto la dichiarazione dello Stato di emergenza per i comuni direttamente interessati nell'accoglienza ai migranti. Inoltre, diverse risorse della nuova programmazione 2014-2020 saranno destinate anche alla sicurezza sanitaria. A comunicarlo è il deputato regionale dei moderati per la Sicilia, Michele Cimino, che continua, è bene che questo impegno trovi tutte le istituzioni pronte. A tal proposito ha chiesto al Presidente Crocetta di venire a manifestare l'attenzione del Governo regionale alla Capitaneria di Porto a Porto Empedocle. Ancora irrisolti i problemi dell'Orchestra Sinfonica Siciliana per gli orchestrali, la politica è lontana, anni luce, dalla cultura e da ciò che rappresenta. Siamo sempre in una fase completamente di incertezza perché gli stessi fondi che dovrebbero essere stanziati, ma ancora non si sa esattamente a quanto ammonteranno, lei pensi che il bilancio di previsione ancora non è stato emanato da parte della Fondazione. Questo lascia capire già come ci stiamo muovendo, con quale precarietà totale ci stiamo muovendo, sia sotto l'aspetto economico che sotto quello artistico, perché come lei comprenderà benissimo, non si riesce neanche a pensare di programmare una stagione 2014-2015 invernale che già possa essere di richiamo per i nostri abbonati. Secondo lei c'è proprio una volontà, anzi una mancanza di volontà politica a risolvere i problemi che investono in generale il settore della cultura? Sì, è come se fosse un mondo a parte che non tocca la politica siciliana, la cultura qui. La distanza che c'è anche intellettualmente con questi parlamentari è ormai incolmabile. Ne abbiamo eletti noi, ma non comprendiamo. Io faccio musica, dico è una vita che ci sto dentro, ma non comprendo, non capisco più chi sono i miei interlocutori. Eppure ho un modo di ascoltarne tantissimi di loro. Un appello potrebbe essere lanciato in ogni... l'ennesimo? E il problema è la sordità, perché l'Eccellenza, Sua Eccellenza il Giudice Giordano, ha fatto pure una petizione molto toccante, proprio sull'orchestra sinfonica siciliana. Ne abbiamo raccolte, credo, 5.000 firme adesioni a questo appello e sono state date pure alla regione, ma è come... come se fosse carta a straccia. Adio Pizzo Travel diventa tour operator, proponendo viaggi in tantissime strutture aderenti al circuito Pizzo Free. Ieri l'inaugurazione della nuova sede Isola delle Femmine, intitolata Peppino Impastato. Ascoltiamo Edoardo Zaffuto, dello staff di Aziopizzo. Adio Pizzo Travel è nato da Adio Pizzo nel 2009 come progetto di turismo responsabile, con l'idea di proporre anche ai turisti di essere consumatori critici contro la mafia. Quindi abbiamo già dal 2009 cominciato a lavorare soprattutto con scuole e poi anche con università per proporre viaggi Pizzo Free, liberi dalla mafia, usando come strutture ricettive, alberghi, bed and breakfast, agriturismi che fanno parte della lista, così come altri fornitori di servizi per il turismo. Oggi facciamo un salto di qualità, possiamo dire, perché Adio Pizzo Travel diventa a tutti gli effetti un tour operator, quindi abbiamo adesso la possibilità di proporci sul mercato autonomamente e di offrire, continuare a offrire quell'immagine della Sicilia che è nostra e che vogliamo proporre. Ieri a Isola anche un'intitolazione a Peppino Impastato. Sì, perché adesso abbiamo anche una nuova sede a Isola delle Femmine, al primo piano della stazione ferroviaria. La scelta su una stazione ferroviaria non è stata casuale. Abbiamo infatti la possibilità intanto di essere presenti su un territorio che per noi è molto importante. Isola delle Femmine è Capaci, chiaramente sono molto vicine. Inoltre l'idea stessa di una stazione, diciamo, riflette un po' la nostra idea di turismo, di turismo lento in particolare. E l'idea di proporre l'intitolazione a Peppino Impastato è stata quasi una cosa naturale, perché proprio su quei binari che vediamo quotidianamente dalla nostra finestra, proprio su quei binari è stato ucciso Peppino Impastato nel 78. Chiaramente è la stessa linea ferrata che collega Palermo e Trapani, dove è stato barbaramente ucciso Peppino Impastato. I giudici della Corte d'Assisei Siracusa hanno inflitto l'ergastolo a Giuseppe Raeli, 73 anni, riconosciuto autore di sei omicidi e due tentati omicidi attribuiti al mosto di Cassibile. Raeli è stato anche condannato all'isolamento di urno per i primi due anni di reclusione, provvisionali per un totale di 120 mila euro e risarcimento alle parti civili da liquidare in separata sede. L'imputato si è sempre dichiarato innocente ed era assente alla lettura della sentenza. A Bagheria è iniziativa di Confcommercio per sensibilizzare i commercianti a denunciare gli estortori. Intendiamo sensibilizzare le persone, la gente, e il volantino lo dirà, lo vedrete dopo, quello che distribuiremo a fargli capire che non sono soli i commercianti, le attività produttive non sono sole. Nella lotta c'è Confcommercio come ci sono le altre associazioni di categoria, per cui il valore sì è simbolico nel momento in cui faremo una distribuzione di volantini e ci sarà una firma di adesione a chi vorrà farlo, ma soprattutto diremo alla gente, diremo alle attività produttive che noi siamo presenti, non sono soli e che saranno sicuramente accompagnati da Confcommercio e dagli uomini di Confcommercio in tutto quello che loro riterranno opportuno di fare. Il segnale l'hanno già dato le attività che praticamente hanno ammesso effettivamente di essere stati estorti e per cui alla fine questo aiuto riteniamo di doverglielo dare. È un obbligo dagglielo perché è un obbligo di Confcommercio ed è una prerogativa di Confcommercio quella di lottare la mafia e l'antiracca. Io sono qui in qualità prima ancora di vicepresidente di Confcommercio, di imprenditrice che opera a Bagheria. Io vorrei testimoniare qui la possibilità invece che a Bagheria si può continuare a essere Isola Felice. Non è Isola Felice per la crisi, ma per tutto il resto ci dobbiamo smarcare da ogni regola perversa che appartiene al passato e deve appartenere al passato. Si può tornare a essere Isola Felice, anzi una nuova Isola Felice che dia sviluppo, che dia prosperità e soprattutto serenità a chi da imprenditore deve assolutamente assoggettarsi esclusivamente alle regole del mercato. Noi siamo qui stamattina, siamo voluti venire in forza a Bagheria, non solo io ma anche altri imprenditori del Consiglio Direttivo, proprio per dire ai nostri iscritti, ma ai commercianti in genere, che l'unico modo per liberarsi dal gioco mafioso e quindi dal ricatto del pizzo è quello di collaborare, denunciare e di non cedere assolutamente al ricatto. Ormai è provato il fatto che chi denuncia è assolutamente protetto da una cortina che è fatta, la forza dell'ordine, magistratura, associazioni di categoria, Confucommercio in prima linea e in condizione di aiutarli in questo percorso che lo sappiamo non è semplice, ma è assolutamente affrontabile. Venerdì prossimo presso i locali della restaurata Torre Duca di Sala Paruta sarà scrittice Dacia Maraini ad aprire l'iniziativa per i 170 anni dell'istituzione del Comune di Casteldaccio nell'evento organizzato dalla Consulta della Cultura di Casteldaccio. La scrittrice ha accolto con piacere l'invito dell'amministrazione comunale e sarà lieta addetto di poter rivisitare i luoghi in cui gironzolava da bambina chiedendo come si facesse il vino. La serata che ha per titolo Ricordando Casteldaccio avrà come relatori lo storico Nino Morreale e lo scrittore Maurizio Padovano. Ed è tutto, grazie per essere stati con noi e arrivederci alle prossime edizioni. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.